Eccoci ragazzi, benvenuti, vi faccio vedere, ci tenevo a mostrarvi la recensione di un agente immobiliare, lui è Michele Tirone, lo potete cercare, esiste, non è un fake, io lo tocco, è in carne, lui è uno dei primi agenti immobiliari che ha acquistato in prelancio il protocollo insieme per vendere. Oggi è qui per rilasciare una testimonianza e gli faremo alcune domande, cercheremo di chiarire qualche dubbio rispetto a chi ancora non ha acquistato il corso, l'avete visto, siete curiosi, ma non l'avete ancora acquistato. Allora Michele, ti faccio poche domande, so che tu sei concentrato sulle acquisizioni e quindi chiaramente non hai mai tempo, quindi cercherò di essere praticamente breve. Allora, cosa ti ha spinto, la prima domanda che volevo farti è cosa ti ha spinto a acquistare il corso in prelancio, cioè per quale motivo hai deciso di pagarmi un corso ancora prima che questo corso lo mettersi nel mercato? Diciamo che comunque già da quando ho conosciuto Giuseppe, quando sono entrato qui un anno e mezzo fa, diciamo che comunque mi ha coprito molto la sua professionalità e comunque i concetti che lui spiegava ai tempi, in una maniera comunque, concetti complessi, in una maniera comunque semplice. Grazie. Quindi l'idea che lui poteva creare comunque un protocollo dove spiegava a tutti noi agenti immobiliari e come fare questo lavoro in tutte le sue sfaccettature, diciamo che comunque mi ha sempre incuriosito. Poi avendo pure l'offerta, sinceramente non ho approfittato e devo dire che comunque è molto interessante. Cioè tutti i punti che tratta, devo dire che sono uno più interessante dell'altro. Ti faccio un'altra domanda perché chi vedrà le recensioni probabilmente ancora non ha acquistato il corso. Come funziona il protocollo? Come chiaramente hai visto ci sono tutte le sfaccettature, quindi la comunicazione, l'acquisizione, tutti i tipi di acquisizione, contatti, referral, social, acquisire con programmi che prima non esistevano, la trattativa, la gestione delle visite, la comunicazione con il cliente con le visite, le molte offerte. Su tutti questi argomenti ce n'è stato, hai trovato, ti hanno aiutato diciamo un pezzo di ognuno o in particolare dove hai preso più spunto? In una percentuale su ogni argomento o un po' su tutto il corso? Cioè tutti gli argomenti comunque trattati nel corso ti danno quella spinta in più per quella cosa che magari ti dice ah ma io questo non lo facevo. E devo dirti che serve moltissimo, serve veramente bene. Ok. Dalla chiamata con i privati all'incontro effettivo con l'approccio telefonico e anche diretto con le persone. Anche il tipo di approccio è diverso perché comunque lui tende più a creare una sorta di, non dite amicizia, comunque si deve creare quella fiducia tra il cliente e l'agente immobiliare che comunque oggi è fondamentale. Ok. Ti ringrazio per il tuo tempo, quindi sicuramente tu già hai il business plan pronto. Business plan è pronto e sto andando, sta seguendo i suoi... Nonostante questa brutta crisi che c'è stata, siamo riusciti comunque a camminare lì. Michele, ti ringrazio per questa tua recensione sincera, cosa potresti dire agli agenti immobiliari che ancora non hanno acquistato e che hanno un dubbio, perché dovrei spendere questi soldi? Non sanno nemmeno quanto costano. Esatto. Fate, fate nel corso perché comunque ci sono comunque delle cose che magari potete non... cioè pensare che magari non sono indispensabili, importanti, invece comunque proprio quelle sono fondamentali per fare questo lavoro. Ok, Michele, ti ringrazio. Grazie ancora. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao ciao.